Lamborghini se ne aveva già parlato un po' di tempo fa, stando sempre un pochino vaga ma non troppo e oggi finalmente la vediamo, parliamo naturalmente della Lamborghini Lasador Concept parliamo di una Ultra GT, Ultra Gran Turismo 2 più 2 con un'altezza da terra piuttosto pronunciata ma con le tipiche linee futuribili e futuriste molto seghettate tipicamente da Lamborghini Lamborghini sta puntando veramente a creare un nuovo segmento, l'han detto anche espressamente Stefan Binkerman l'ha detto chiaramente, è il CEO di Lamborghini per chi non sapesse con questo comp si stiamo aprendo un nuovo segmento di auto, l'Ultra Gran Turismo ai clienti arriverà nuova tecnologia e ineguagliabile esperienza di guida tipicamente Lamborghini grazie a tecnologie all'avanguardia questa è l'idea di fondo di questa vettura che attenzione non è un concept fino a se stesso ma è un'anticipazione vera e propria di un modello che arriverà nel 2028 prima di guardarlo esteticamente, che tanto l'avete già visto dalle foto eccetera ci tengo a sottolinearvi una cosa, questa macchina è il naturale proseguire della direzione Cortauri la direzione Cortauri è il piano di decarbonizzazione dell'azienda Lamborghini annunciato nel 2021 annesso ovviamente all'elettrificazione di tutta la gamma e dopo il debutto della Revuelto la prima ibrida plug-in V12, adesso arriva questo concept che ci anticipa il modello 2028 dell'Ultra GT che è naturalmente 100% elettrico ora lo so, starete sicuramente storcendo il naso, lo so, magari ne parliamo un attimo a fine video faccio due commentini, ma capisco che non è facile, va soltanto inquadrato bisogna inquadrarlo perché in realtà l'idea è interessante, va inquadrata, sono d'accordo però calma, guardiamolo un attimo esteticamente ed esteticamente sicuramente possiamo notare ragazzi che si tratta di un'auto come minimo particolare considerate che naturalmente siamo su una vettura di grandi dimensioni non ci sono dati numerici effettivi dichiarati di cui possa parlarvi quindi dobbiamo stare sul generico però considerate che sicuramente siamo su una vettura che è una Gran Turismo guardatela, è una berlina sì, è una berlina molto allungata con un cofano molto prominente molto molto visibile molto molto visibile che però non è propriamente una GT tipica perché risulta un pochino altata da terra non tanto in realtà perché è più l'effetto dei cerchi che sono cerchi da 23 pollici l'unico dato che abbiamo che ti fanno vedere l'auto più alta di quanto sia in realtà però di fatto non è granché rialzata esageratamente è abbastanza in linea con quello della Huracan sterrato avete presente cosa intendo, no? è rialzata sicuramente rispetto alla Huracan ma non è diventata un SUV ecco, non è un Aurus idealmente ebbene mi piace il fatto che abbiamo ripreso questa linea da coupé berlina GT 2 più 2 quindi una serie di cose l'abbiano rialzata effettivamente questo non sarebbe in linea con le GT le GT non sono auto rialzate però è anche vero che le GT devono essere confortevoli e per rendere confortevoli una Lamborghini non è una brutta idea alzare un po' le sospensioni c'è un'idea c'è un'idea sicuramente c'è un'idea e poi mi piace il fatto che l'estetica sia perfettamente in linea con il nuovo corso stilistico di Lamborghini che però già conosciamo non è niente di esagerato stravagante pazzo mai visto prima l'abbiamo già visto ad esempio non so davanti con la Lamborghini Countach la nuova Countach la LP 804 sicuramente la forma dei fari schiacciati viene da lì o ad esempio invece guardate i fari posteriori questi per ciascun gruppo ottico avere i tre esagoni luminosi concavi all'interno sinceramente mi ricordano tantissimo la Sian quindi vedete che è un design è un corso stilistico che abbiamo già conosciuto e quindi fa piacere sapere che è ciò che ci attenderà e quindi abbiamo già avuto modo di assaggiare questo design e lo vedremo sui modelli a venire di Lamborghini poi ripeto ragazzi non ho dati numerici tecnici quindi non posso esagerare granché perciò guardatela fatevi un'idea e questo è ciò che sostanzialmente so pure io cioè non è che cambia granché ma passiamo all'interno perché invece dentro abbiamo una cura secondo me maniacale a quello che è la filosofia Lamborghini ora Lamborghini voi pensate una Lamborghini la guardate pensate è una navicella cioè un'astronave è una navicella spaziale ebbene anche l'interno in Lamborghini è rimasto e anzi se possibile è ancora di più rispetto a prima una navicella spaziale un'astronave guardate con questa divisione dei due posti anteriori al centro da questa plancia allungata che parte dal cruscotto e arriva fino a di fianco cioè sul bracciolo praticamente arriva con naturalmente il tasto alla Top Gun per accendere il motore elettrico ma per accendere il motore alla Top Gun maniera con questi due schermi gemelli uno davanti al guidatore e uno davanti al passeggero anteriore incavati all'interno dello stesso della stessa curva della plancia quindi cioè qui l'effetto astronave c'è ragazzi non potete dirmi che non sia un'astronave questa macchina a vederla e sicuramente questo mi fa capire che è una Lamborghini perché io quando guardo una Lamborghini ho bisogno che sia la cosa più simile a un jet che possa vedere su strada io ho bisogno che una Lamborghini sia questo e sinceramente questo interno per me ci siamo è assolutamente in linea tecnologicamente non ve lo sto neanche a dire è ultra avanzato si usa se vengono usate tutte le massime tecnologie disponibili in Lamborghini sotto questo punto di vista quindi inutile che ve lo dica naturalmente però mi piace il fatto che ci sia ancora questa pazzia anche se bisogna fare attenzione a tutte le cose a tutto l'economia l'ecologia e cose sì ma Lamborghini non perde la sua pazzia perché quello è il suo marchio di fabbrica quindi la pazzia non la perde a proposito di materiali sostenibili sappiate che tutto questo interno quasi interamente è composto da materiali riciclati i pannelli delle portiere il cruscotto la plancia pure le pelli le pelli sono riciclate il carbonio la fibra di carbonio abbiamo una fibra di carbonio che per capirci siamo su un carbonio che viene riciclato con un sistema di stratificazione vabbè non importa però facciamola semplice anziché avere la stessa forma per tutti gli strati in cui viene disposto queste fibre di carbonio abbiamo sulla parte più esterna una forma tipicamente della fibra di carbonio quella che vi aspettereste quella con gli intrecci tipici del carbonio perché la funzione dello strato più esterno è funzione estetica la vera funzione pratica la funzione di prestazioni viene dagli strati che non si vedono quindi abbiamo sotto la parte riciclata con una forma diversa che punta tutto sulle prestazioni però sulla parte estetica sulla parte esterna l'ultima l'ultimissimo strato è invece quello tipico del carbonio quindi abbiamo riciclato del carbonio siamo assolutamente a posto lato ecologico insieme a tutte le plastiche tutte le pelli tutti i rivestimenti le lane tutto tutto anche il carbonio che fa ancora di più il suo dovere è riciclato ed esteticamente non fa differenza un ottimo traguardo secondo me per Lamborghini sicuramente questo perché chapeau assolutamente sì comunque quindi anche questo fa parte dell'attenzione di Lamborghini verso il futuro elettrificato e più sostenibile considerate che Lamborghini già dal 2015 è certificata CO2 neutrale ma per il 2025 e il 2015 non era tanto sospetto come periodo chi è che nel 2015 era carbon neutral chi è per il 2025 vogliono ancora dimezzare questa cifra c'è questa CO2 emessa e poi naturalmente recuperata quindi vedete l'attenzione che c'è nel piano della direzione Cortauri ebbene questa macchina ci fa capire ancora di più quello che sarà la Lamborghini che sta arrivando ecco la Lamborghini del futuro a cui si sta già approcciando fin da ora e già da qualche anno in realtà benissimo passiamo invece alla parte meccanica perché qui naturalmente è dove i puristi gli scenderanno la lacrimuccia ma se invece uno guarda soltanto la prestazione non può che essere contento perché alla fine quello è allora si tratta di una vettura 100% elettrica ve l'ho già detto non so dirvi su che piattaforma si basi è un concept quindi vabbè questi sono casi limite non so dirvi su cosa si baserà la versione stradale del 2028 perché in teoria dovrebbe essere la piattaforma SSP la Volkswagen Mechatronic Platform però non lo so perché potrebbe anche essere la PPE perché la PPE è ciò che la SSP dovrebbe andare a sostituire la PPE è quella dell'Audi Tron GT RS cioè GT in generale e della Porsche Taycan che è una piattaforma con tantissimi punti a favore molto molto evoluta pensate a una sola la ricarica per dire alle 4 ruote sterzanti a un sacco di cose eppure già potrebbe venire sostituita dalla SSP che però non si sa ancora che punto sia potrebbe essere non lo so ci sono un sacco di fattori che non mi fanno capire e non mi fanno capire se potrà essere PPE o SSP ma statisticamente comunque una di queste due ebbene parliamo di una vettura con naturalmente almeno due motori almeno due motori su ogni asse è installato un motore elettrico ad alta potenza specifica ora non sono stati chiarissimi sulla potenza ma sappiamo che la potenza massima di sistema supera cito il megawatt megawatt cioè un megawatt uguale mille kilowatt quindi siamo oltre i mille kilowatt però perciò siamo abbondantemente oltre i 1400 cavalli benissimo quindi immaginatevi che potenza disarmante deve avere una macchina del genere che accelerazione possa avere io penso che le gomme slittino a 250 all'ora cioè una roba incredibile devastante ottimo quindi abbiamo doppio motore trazione integrale oltre 1400 cavalli fuori di testa ragazzi e trazione integrale con un sistema di ripartizione di coppia attivo sull'asse posteriore per migliorare la dinamica di guida dovete considerare che è il motivo per cui dicevo la prestazione pura potrebbe essere in realtà un bene elettrico in sé perché dovete considerare che parliamo ad esempio non so del sistema di filla pilot di Lamborghini quello di farti sentire un pilota mentre guidi grazie appunto fra le altre cose fra le sospensioni pneumatiche attive fra l'aerodinamica attiva l'aerodinamica Lamborghini attiva tutte queste cose qua che qui sicuramente non mancano e anzi arrivano a livelli ancora più elevati dovete considerare che la Lamborghini dinamica veicolo integrata la LDVI qui può raggiungere i livelli mai visti prima perché un sistema elettronico che deve lavorare gestendo un sistema meccanico farà sicuramente più fatica e più ritardi per quanto ridotti rispetto a un sistema elettronico che deve lavorare con sistemi elettronici è tutto lì cioè non è niente di che pensate scusate cito perché almeno così vi do un'idea pensate che la trazione integrale 4 meccanica che ormai è gestita elettronicamente ma è una trazione meccanica ha un ritardo se mi ricordo bene di 5 volte superiore rispetto alla 4 elettronica dell'Audi e Tron GT che è lo stesso sistema di base per come viene poi talato però avendo questo sistema elettronico il ritardo viene ridotto di 5 volte capito questo è il principio di base fondante anche qui perciò abbiamo un nuovo sistema di dinamica del veicolo integrata con un nuovo benchmark per la casa di Sant'Agata sicuramente perché possono lavorare più facilmente con questa tecnologia abbiamo anche ovviamente un sistema che può essere personalizzato con l'immancabile anima di Lamborghini con cui puoi selezionarti la tua guida puoi anche farti la tua personalizzata naturalmente quindi benissimo e quindi puoi andare a giocare ancora di più come ci si aspetterebbe da un'auto del genere naturalmente e poi ve l'ho detto ma adesso lo approfondiamo un po' di più l'aerodinamica attiva sulle auto elettriche l'aerodinamica è ancora più importante rispetto alle autotermiche perché sull'autotermiche uno l'aerodinamica la fa per garantire stabilità sì per ridurre un po' i consumi ma se sono Lamborghini endotermica il consumo vabbè lo sai benissimo che non è che può essere quindi di conseguenza diventa solo quasi esclusivamente una questione di prestazioni qui invece sull'elettrico c'è in gioco l'autonomia sull'autonomia non si può scherzare quindi di conseguenza il sistema aerodinamico intelligente di nuova concezione incorpora l'ala aerodinamica Lamborghini attiva tecnologia già utilizzata sulla Eurocam performante sulla Ventador SWJ per capirci insieme a nuovi dispositivi aerodinamici attivi nella parte anteriore nella parte posteriore abbiamo così il massimo del carico aerodinamico possibile quando siamo in modalità performance e ci vogliamo divertire ma anche il massimo in termini di efficienza energetica pura vera e propria quando cerchiamo di avere la massima autonomia disponibile che magari siamo in viaggio e la stiamo usando appunto da GT giusto per darvi un'idea anche i cerchi da 23 pollici che vi ho detto come vedete hanno degli elementi esagonali di apertura ma sono dotati di aeroblade per ridurre al minimo le turbolenze ed è solo uno dei dettagli perché poi ci sono gli sduct il condotto all'aspirazione nella parte anteriore le feritoie nascoste nella ventilazione che è una quantità di roba disarmante che non vi elenco tutto perché altrimenti il video durerà 64 ore però l'aerodinamica qui ha raggiunto veramente un livello ultra efficiente ultra efficiente a questo aggiungeteci quello che vi dicevo prima del fatto che non so cosa sarà la piattaforma ma se anche fosse la PPE sarebbe comunque compatibile questo concept alla lasa d'orre ha la sale posteriore sterzante ha le sospensioni pneumatiche attive abbiamo distribuzione della coppia più precisa più rapida perché parliamo di pochi millisecondi per andare a gestire la coppia su ciascun asse quindi è un'attenzione incredibile abbiamo il wheel speed control che è una sorta anche lì di torque vectoring ma non proprio cioè regola in modo più rapido e preciso possibile la potenza la coppia sulle ruote su ciascuna ruota in base a una serie di fattori personalizzabile pure questo fra l'altro quindi vedete l'attenzione che c'è anche sulla guida e in più anche sull'efficienza proprio grazie all'ordinamica bene ragazzi direi che più o meno ci siamo detti tutto quindi io concluderei semplicemente rispiegandovi la parte invece della Cortauri allora io so che qualcuno tra di voi ovviamente starà storcendo il naso e non me lo nascondo anche io a pensare a una Lamborghini elettrica faccio un po' fatica cioè l'accetto certo ci mancherebbe anzi ci sta però faccio fatica perché sono cresciuto pensando che le Lamborghini sono auto che devo sentire passare a 10 km di distanza sono cresciuto così e quindi sarà difficilissimo abituarsi perciò sì va bene ma devo dire anche che vedere un auto anzi scusate un marchio come Lamborghini che potrebbe benissimo tra virgolette sedersi sugli allori e dire io sto con il motore a combustione e comunque quando ci saranno due fiore qualunque roba che sia io continuerò a vivere potrebbe quasi sedersi sugli allori e continuare ad andare avanti tranquillamente con le vetture endotermiche e basta il fatto che si metta comunque in gioco che garantisca comunque una gamma più completa garantisca anche le GT 2 più 2 che garantisca anche le elettriche per chi magari è appassionato di elettriche sempre comunque con l'attenzione all'ambiente perché dal 2015 dove l'elettriche in Lamborghini zero anche adesso è così ma dal 2015 proprio che chi se ne fregava niente praticamente dell'ambiente siamo onesti cioè nel 2015 non si parlava così tanto di tutta questa questione era già carbon neutral cioè Lamborghini poteva benissimo dire io mi fermo così cioè vado avanti così sono già carbon neutral e invece si è messa in gioco e questo ragazzi va apprezzato può far strano Lamborghini elettrica però va apprezzato perché è un marchio che potrebbe benissimo non farlo e cioè nonostante si mette in gioco ottimo cioè devo dire sicuramente ottimo specie se consideriamo che la Lanzador non è un esercizio di stile di design puro fatto così per ingegneri e designer perché non sapevamo cosa fare allora per farvi vedere cosa siamo capaci di fare lo facciamo perché non aveva niente da fare no è un'anticipazione concreta vera e propria di quello che sarà un modello stradale di serie che Lamborghini presenterà nel 2028 e che verrà costruita a Sant'Agata Bolognese quindi non è una roba buttata lì per far sapere con la facciata che guardate quanto siamo bravi no è veramente una Lamborghini che vedremo e conoscendo Lamborghini quando i concept nascono già pensando che non siano fatti così tanto per fare per far vedere cosa sappiamo fare perché ci sta uno fare anche quello per carità però quando un concept nasce pensando è per far vedere di cosa siamo capaci non perché ci interessa renderla di serie vengono fuori delle cose assurde ma quando un concept Lamborghini nasce per essere un'anticipazione dello stradale di solito non è che cambia poi così tanto da quella di serie quindi mi aspetto di vedere una vettura che tutto sommato non sarà così diversa da questa non male sicuramente non male ah piccolo dettaglio piccolo piccolo e ci tengo a sapere cosa ne pensiate dal video non si capisce bene perché è montato eccetera ma non mi sembra di aver sentito nessun suono non mi sembra di aver sentito un fake sound generator mi sembra silenziosa fischio classico delle auto elettriche e ci tengo a sapere cosa ne pensiate sia di questa vettura in generale sia del cambio di ruote di Lamborghini verso l'elettrificazione tutto quello che è magari anche la questione del fatto che poteva benissimo non farlo perché era già carbon neutral nel 2015 quello che volete ma anche a sapere cosa ne pensate dell'eventuale silenzio anziché del fake sound generator perché io sinceramente potrei anche pensare se non ho un motoro a combustione tanto vale che non faccio rumore però è anche vero che dico se però una Lamborghini nemmeno fa rumore dove andiamo se c'è qualcosa tanto male che sono tutte silenziose fatemi sapere cosa ne pensate perché sono veramente curioso e noi naturalmente ci vediamo al prossimo video sempre qui su Automoto ciao ciao